Un cancello provvisorio appena installato è pronto a sbarrare la strada verso il campo dell'arsenale da Calle della Pegola. Un altro cancello divide il ramo secondo della Pegola dalla fondamenta degli arsenalotti. Altrove, come sulla fondamenta dell'arsenale e nei pressi di campo San Martin, dei gazebo sono pronti a trasformarsi in altrettanti posti di blocco. Sono i segnali dell'imminente G20 dell'economia che blinderà l'area dell'arsenale di Venezia dal 7 all'11 luglio. Off-limits saranno non solo i 48 ettari degli antichi cantieri navali della Serenissima dove si svolgerà il summit internazionale, ma tutte le aree con termini del sestiere di Castello. Un chilometro più a nord, all'altezza dell'imbarcadero della Celestia, galleggiano già le delimitazioni alla navigazione che interesseranno presto questo ampio tratto di laguna. A pochi metri dall'arsenale, al Museo Storico Navale, vengono consegnati i lascia passare ai residenti in zona rossa e a coloro che più in generale avranno il permesso di entrare e uscire dall'area del G20. Sono residente qua in campo arsenale. E con questo pass cosa potrà fare? Beh, posso uscire e entrare senza avere problemi. È stato difficile avere? No, non è stato difficile. Sono passati dei carabinieri a avvisarci tutto e sono stati molto informativi. Poco distante, in via Garibaldi, tra le arterie più importanti del sestiere di Castello, vicinissima ai giardini in cui si svolge la biennale di architettura, ci si prepara all'appuntamento con la zona rossa. Oddio, non è Nepali perché hanno chiuso la città di più. Non c'è possibilità di vaporetti, di cose. Uno magari con le bar che siamo stati costretti chile a spostarsi però senza avere un posto dove mettere le bar in un caso 8. Lei abita qui? Sì. Come si sta organizzando? Io sono presidente anche di una società remiera che dal 7 al 11 noi purtroppo saremo fermi. È arrivata qualche comunicazione ufficiale? Esattamente no. Quindi come si comporta? Devo arrangiarmi, guardare le ordinanze e fare quello che dicono. Diciamo che è tutto un punto di domanda, non sappiamo niente. Cioè non c'è stato detto ancora niente.